Buon pomeriggio, sono le 15.55 di mercoledì 26 giugno e mancano la bellezza di quattro minuti circa ai dati importanti statunitensi. Uno, vendite di nuove abitazioni, che è quello che ci interessa di più tra tre minuti in realtà, e poi scorte di petroglio greggio che arriverà però dopo e vedremo insieme di che cosa parlare, perché questo video che è un'edizione speciale rispetto al solito viene fatto per sia vedere che cosa succede durante i dati e che cosa ci dava il tecnica 2 prima dei dati. Qui posso farvi vedere tranquillamente che dovremmo esserci per il long 15 e 20 su MIB. 15 e 20, ok eravamo qua, perfetto. Poi mi sono ricordato del dato USA e mi sono dovuto fermare un attimino. L'altra cosa che vi voglio far vedere è la mossa Kansas City. Chiunque ami il cinema come me probabilmente ha visto un film che si chiama Lucky Number Slevin, cioè Slevin in italiano, Slevin, patto qualcosa, non mi ricordo più quale sia il sottotitolo strano italiano. Quello che viene spiegato in un video che non posso farvi vedere perché è coperto da copyright è proprio la mossa Kansas City. Si distrae l'avversario in un modo e poi si colpisce. Quando è più disarmato, quando non può aspettarsi che succeda qualche cosa di terribile tra l'altro. Vi faccio vedere la mossa Kansas City. Eccola qua. Stavamo salendo felici e contenti. Apriamo e sprofondiamo. Semplicemente sprofondo che ci ritroviamo alla base per chiudere il settimanale. Allora il giorno successivo, dopo una disastrosa discesa di questo tipo su DAX, grafico a 15 minuti, un po' di rialzo, uno se lo aspetta, però capite bene che con un rischio, oltretutto, che questo fosse un ciclo vincolato ribasso, long non tanta voglia. Long non tanta voglia, vedi che abbiamo fatto bene a non andare long, long, porca miseria, benissimo abbiamo fatto a non andare long. Vedi che il settimo t-3 in realtà ha iniziato da qui, io te lo dicevo. Però essere lito un pochino di più. Stop loss. Se qui c'era qualcuno che era long su DAX, è andato in stop loss la mattina successiva. se qui qualcuno provava uno short per chiudere il ciclo settimanale e anche i rispettivi t-3, con una salita come quella fatta questa mattina, mercoledì 26, stop loss. Successivamente uno dice, beh dai, scusa, siamo al primo t-4, prima il 16 barre, aspetto un rimbalzo, perché immediatamente fa un rimbalzo e poi si scende. Nessun rimbalzo, nessun tipo di rimbalzo di nessun tipo. Una micro candela d'oggi che poteva dire, dai rimbalziamo, solo un mare di rosso. Quindi, mentre stamattina vi raccontavo che avevamo violato i swing per far partire persino qualcosa di più da qua sopra e vi raccontavo che poteva esserci un raccordo, caspita che disastro, proprio un raccordo, perché qui abbiamo violato gli swing, è vero, bisogna aspettare tempo, bisogna aspettare volumi, quindi conferma di candele rosse. Ma cosa vuoi che accada? E cosa vuoi che accada? Contagio da tre streghe, si chiama. Oppure mossa Kansas City, dal film Slevin, Lucky Number Slevin. E poi di nuovo giù, ribasso, non salirà tanto, rialzo con chiusura per stop loss, ribasso. Quindi di nuovo con questa discesa abbiamo di nuovo violato swing, ma stiamo rimbalzando e sono le 16 per cui andiamo a vedere che dato c'è. Allora, il dato delle vendite di nuove abitazioni è stato di 619.000 contro un'aspettativa decisamente più alta. Quindi se vendo meno case, dovrei essere triste? No, festeggio, perché? Perché se ci sono meno case vendute c'è più un deterioramento dell'economia degli Stati Uniti, quindi potremmo ritornare a valutare magari un taglio dei tassi come successe in Europa, quindi dovrei festeggiare, i mercati dovrebbero brindare, vediamo cosa succede, però una candela rossa. Ok, una candela rossa. E qui su Mib, un'altra candela rossa. E vi ho fatto vedere che Mib, dove ho messo Cipari Long, eravamo qua, stava iniziando la seconda candela verde e quindi il Tecnica 2 avrebbe funzionato anche questa volta. Solo che adesso bisogna fare un attimo il punto della situazione perché soprattutto su Dax è eccezionale. Il contagio da tre streghe è quello di cui ogni tanto vi parlo. Fate attenzione perché anche se le tre streghe saranno venerdì potremmo iniziare ad avere delle robe strane sui mercati a partire dal martedì, mercoledì, giovedì e arrivare fino alle tre streghe. robe strane tipo tantissima lateralità, fermi, oppure contagio successivo, scaricata di HFT, ricaricata di HFT per richiudere tutta l'ultima parte che si era fatta e poi di nuovo riscarico e poi di nuovo su. Tutto in un training range che su Dax passa dai 18.076 ai 18.364, 300 tic di Dax. Sapete quanto sono con un future? Tanto. Tantissimo. Tantissimo. Sono quasi un mese di guadagno medio di un trailer, ok? Se fatti con un future pieno o due o di più, ok? La gente mediamente trada con altri strumenti, CFD, certificati a leva o altro, ma era da un po' di tempo che non vedevo una roba del genere. È stato bello assistere a questa discesa e adesso che facciamo? Il solito, ok? Il Tecnica 2 ci avrebbe dato salita soprattutto sul MIB, noi avevamo centrati su quello con un target molto semplice, quello che poi è stato andato a fare, ok? E partiamo proprio dal MIB. Dal MIB abbiamo la condizione per una chiusura di ciclo T-3 ma anche qualcosa di più ed inverso. Cosa vi dicevo questa mattina? Che ci servivano almeno 48 barre sotto un massimo assoluto, sotto questo massimo assoluto per far iniziare un nuovo settimanale inverso e ne abbiamo 63 e vi presento potenzialmente un nuovo settimanale inverso. Possiamo togliere finalmente questo rischio di dover avere meno candele che è una roba che detesto, ma in tendenza le regole dicono che è possibile, qui un po' importante o meno, ma ok. E adesso se dovessimo tornare qui sopra, continueremo a salire. Se dovessimo già avere difficoltà a salire qui sopra e dovessimo ripiegare, bisogna ricordarsi che un settimanale iniziato qua sotto, adesso potrei anche toglierla magari questa T, questo punto di domanda è mettere anche qualcosa di più di un tecnica semplice, di un ciclo settimanale, qualcosa di più sta partendo, è partito e tra l'altro può essersi già chiuso e da qui in base allo swing che avrà violato sapremo cosa vorrei iniziare, se un semplice nono T-3 che è un ciclo giornaliero come vedete sempre qua, oppure no. Quindi un allarme bisognerà metterlo qui, sperando che non suoni mai, ok? Perché se non suona parte un nuovo ciclo, anche soltanto un ciclo giornaliero oppure un settimanale. Quindi andiamo a prenderci il rigo esatto 33.371, 371 e 78. Vincolo ribassista, ok. Poi vedremo soprattutto un'altra cosa, l'inverso, siamo già a 27 barre, occhio eh. Occhio perché qui devo ancora vedere un attimo che swing abbiamo violato con questa discesa che comunque sembra più piccola ma è stata intensa. E su DAX? Non abbiamo soltanto fatto come ieri, violato uno swing importante, ma a questo punto ne abbiamo violato due, uno e due. Il rimbalzo è interessante, però anche in questo caso bisogna vedere a quanto tempo siamo di inverso, siamo a 26 barre. I dati hanno influito qualunque sia l'opinione che ci si può fare in base a un dato del genere inferiore a quello previsto rispetto a quello che vi ho fatto vedere che avevo fatto scritto appunto alle 15 e 20 relativamente a un long per la partenza di un nuovo T-3? E direi di no, proprio per niente. Il tecnica 2 se ha già un chiaro andamento, se è già pronto a partire se parte, non cambia con i dati e quindi gain. Ok? Non mi piace dover lavorare a livello di dati, dovrei lavorare con i dati, però sinceramente preferisco non avere problematiche e continuare a vedere se tutte le volte che mi viene dato un segnale ben preciso, continua grazie ai dati, si va a target nonostante i dati e nella maggior parte dei casi il tecnica 2 ormai funziona anche durante i dati. Ok? E come di consueto, se non sapete di che cosa parlo, il sito è analiseevoluta.it dove potete avere richiedere la guida gratuita per iniziare a comprendere un metodo statistico-matematico non discrezionale con marchio registrato. Una delle poche cose che è estremamente regolare in Italia e questo è. E questo è l'intervento che volevo fare. Qui oltre alla chiusura di un ciclo T-3 inverso, facciamo attenzione a che cos'altro può succedere, andiamo a vedere che swing è già stato superato perché abbiamo superato questo minimo, questo minimo, questo minimo e quindi anche qui voglio vedere. Su DAX, a meno che non ci sia l'ennesimo ritorno su come abbiamo già fatto 1, 2, 3, ok? A meno di questo, di nuovo, posso dirvi che da questo massimo in anteprima è stato violato teoricamente un massimo un po' più grosso che per far iniziare solo un settimanale ID inverso. Un settimanale spinge per scendere, ok? Come vedete la situazione qui è differente, qui basta. Qui abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente per chiuderlo un T-3 inverso perché siamo oltre le 21 barre su DAX, dove sono? Eccole qua. Da qua a qua 26 barre, quindi può chiudere quando vuole e se dovesse ripiegare qui sotto, di nuovo, anche in questo caso vogliamo avere un bell'allarme sotto i 18.045.54. Vincolo ribassista, ok. Per far iniziare un nuovo T-3, un nuovo ciclo giornaliero, sappiamo che bastano almeno 5 barre sopra un minimo. Noi siamo già a 5, ok? Nel caso questa chiuda tra 7 minuti senza essere tornata qua sotto abbiamo grosse possibilità che il T-3, che il T-3, un nuovo ciclo giornaliero, sia iniziato facendo attenzione però a che cosa è collegato. Perché qui, vabbè, questo ve lo dico magari domani mattina, d'accordo? Ricordatemi di parlare di questa parte qua. Direi che tutto per questo intervento magnifico, fantastico relativamente i dati che avrebbero dovuto cambiare la nostra vita ma che in realtà, come avete visto, con un metodo statistico-matematico non discrezionale non hanno cambiato niente rispetto alle nostre aspettative. Siamo saliti, nonostante il dato negativo che può essere positivo per un discorso di taglio dei tassi, questa è l'analisi ciclica evoluta. L'evoluzione dell'analisi ciclica di Hurst, l'evoluzione dell'analisi ciclica del migliorino. E come di consueto sta a voi fare una scelta? Volete approfondire per andare a vedere quanto si guadagna con l'analisi evoluta? Scegliendo gli appunti di analisi evoluta richiedendoli direttamente su analisievoluta.it.com oppure se già la conoscete volete venire a vedere che cosa facciamo nel gruppo premium tutti i giorni e cosa ci portiamo a casa. È la nostra asset line. Perché qui su questo canale, sul primo canale italiano per cicli sui mercati finanziari, tutti i giorni mi espongo per dirvi che cosa vedo e che cosa può succedere se ci saranno, come al solito, conformità tra swing, volumi e tempo. E la mossa a Kansas City ci ha detto che se anche lo swing viene violato per far partire più di un settimanale, se non ci sono i volumi si ritorna dall'altra parte, vediamo se non ci fa di nuovo un altro scherzo. Questa volta rischia però di essere letale questa discesa. Occhio a voi la scelta. Auguro a tutti una splendida giornata.